Mi chiamo Alessandro Maiorano, sono dipendente del Comune di Fiorenze e abito a Prato. Quello che sto tentando di far emergere da diversi anni è la vera figura di Matteo Renzi. Matteo Renzi il 30 agosto 2013 mi denuncia, mi reco in procura il 5 dicembre a ritirare gli atti e dagli atti vedo come grande sorpresa Matteo Renzi alla residenza su Anagrafia, che non all'interno del signor familiare, ma bensì in via Alfani 8 a Firenze. La cosa mi sembra veramente molto strana perché una persona sposata con tre figli dovrebbe avere in pratica la sua residenza all'interno del signor familiare. Nel frattempo vengo a scoprire che l'affitto di via Alfani 8 a Firenze veniva pagata al signor Matteo Renzi da un suo carissimo amico che è Marco Carrai. Marco Carrai è un imprenditore fiorentino che per 35 mesi ha pagato l'affitto di casa a Matteo Renzi. Simile atteggiamento come voi lo sapete è successo con altri politici in merito ad altre vicende, mi riferisco alla vicenda di Fini, Scaiola, Tremonti, Milanese. Per quanto riguarda Matteo Renzi invece c'è questo fascicolo aperto dalla Repubblica di Firenze, un fascicolo esplorativo dove la Repubblica di Firenze dovrà dare delle risposte in merito alle mie domande, anche perché è molto strano che un imprenditore per 35 mesi paga l'affitto di casa a un politico e guarda caso dopo l'imprenditore riceve per lui e per alcuni suoi parenti appalti e favori. Mi riferisco a Marco Carrai, mi riferisco anche alla fidanzata di Marco Carrai che stranamente un paio di mesi fa è stata nominata coordinatrice di un'importantissima mostra a Firenze di Pollock senza che ne abbia secondo me i requisiti. Il Premier Renzi mi ha correlato in relazione a un presunto 595 in merito a delle esternazioni, a delle interviste che ho rilasciato a vari giornali in merito a delle spese folli che Matteo Renzi ha fatto sia ai tempi della provincia, sia ai tempi della Flores Multimedia e sia anche in altre situazioni. La storia in sintesi è questa, 30 di agosto 2013 Matteo Renzi mi querella per diffamazione e sono stato inviato a giudizio dalla Produra della Repubblica di Firenze perché io avrei esternato la frase Renzi ha dilapitato 20 milioni di Euro soldi dei contribuenti, in più avrei fatto alcune magliette con la scritta appunto Renzi ha dilapitato 20 milioni di Euro dei cittadini. In merito alle accuse che ho rivolto a Matteo Renzi non è che ho parlato a Vambera ma ho parlato sempre con cognizione di causa essendo io in possesso di 7,5 kg di fatture per un totale di 33 milioni di Euro ma ho anche altro materiale legato all'Usi, legate alle fondazioni e quant'altro che darò prossimamente anche il mio Avvocato Tavarmina. Ma la cosa che mi ha fatto indignare sono le voci in queste fatture, in questi soldi pubblici, cene, voli, alberghi. Poi c'è una voce veramente strana, 3 mila Euro dentro una notte a Boston. Ora Matteo Renzi mi dovrebbe dire che cosa ci si fa una notte a Boston con 3 mila Euro, soprattutto chi ci si paga e cosa ci si paga. Ma anche su questa cosa Matteo Renzi ha sempre fatto come di solito fa lui, scappa. Cortesemente Matteo Renzi, premier, mi vuoi dire con quei 3 mila Euro quella notte a Boston chi ci hai pagato?